Questa mattina siamo tra Gabbiano e Camino e vediamo questo classico cascinotto piemontese ristrutturato già nelle parti esterne, quindi il tetto è completamente rifatto, lo vedremo meglio nel video successivo al piano primo dove il fienile è stato completamente recuperato, quindi vedremo il tetto a vista, così come la facciata, le facciate sono completamente rifatte, anche il muro esterno della casa, è stato recuperato molto bene il tufo, un'impresa che sicuramente ha lavorato anche bene proprio sul materiale, è un'impresa della nostra zona quindi ha lavorato molto bene sul materiale, gradevolissima anche la scelta che spesso si fa di recuperare la cornice e di formare la cornice intorno alle aperture della casa che danno un po' di movimento anche alla facciata. Ecco tuffo e mattoni, anche l'esterno hanno già eseguito dei lavori importanti perché la zona è una zona collinare panoramica però molto ripida, quindi il nostro terreno di 3500 metri quadri è parecchio ripido e scosceso ed è qui davanti alla casa. La proprietà ha fatto questo lavoro di palificazione proprio per permettere, per avere questo spazio esterno davanti alla casa godibile, pianeggiante e godibile. Poi sulla mia destra, ecco, oltre a quelle piante dove ci sono le cataste di legno e di mattoni si scende proprio nel nostro terreno. La casa è una casa non enorme, saranno 150 metri quadri su due piani, con doppia esposizione, abbastanza stretta, quindi si possono recuperare comodamente diciamo soggiorno, cucina, due bagni, 2 barra 3 camere e poi ovviamente quel terrazzo molto molto bello panoramico. Se volete visionarla dal vivo ci potete contattare, noi siamo la Domus di Casale Monferrato, piazza Mazzini 5. Numero di telefono 014275983. Ora proseguiamo la visita entrando nell'immobile che, ripeto, all'interno è completamente da ristrutturare.